Sicuramente questa era una partita che noi volevamo vincere, ce l'avevamo detto già all'inizio settimana, era una partita importante per poter segnare un punto di svolta. Loro hanno fatto una buona partita, secondo me, ci sono state diverse fasi in cui noi abbiamo attaccato e potevamo vincere la partita e le fasi in cui loro sono stati bravi a metterci sotto. Penso che però nel complesso potevamo vincere, ci meritavamo di vincere, perché per il poco che abbiamo concesso e ci dispiace aver preso due gol, potevamo essere forse più bravi a non concedere questi due gol, però penso che la prestazione ci sia stata. Ma sì, sapevamo che loro cercavano molta profondità, specialmente perché avevano due attaccanti molto bravi a interpretare questa fase, ci hanno messo molto in difficoltà da questo punto di vista, a mio parere. Sicuramente è stato un errore un po' corale, anche mio, perché sinceramente potevo magari fare di più. Quindi mi dispiace aver preso quel gol da una situazione schiarata che potevamo evitare. Sicuramente non ci fa piacere stare in quella parte di classifica e penso che non lo meritiamo neanche. Allo stesso tempo però bisogna vedere anche i dati positivi, veniamo da tre risultati utili consecutivi, la vittoria in Coppa con il Pescara, adesso ci sarà un'altra partita. E quindi comunque oggi non perdere, aver fatto un punto, visto anche l'andazzo della partita, siamo stati sempre sotto, penso che ci possa dare fiducia. E continuare su questa striscia è comunque la strada giusta per uscire dalla zona play-out. Sì, ho preso il rosso diretto contro il Pescara, però verrà lo stadio. Ovviamente noi puntiamo sulla Coppa Italia, la teniamo a vincere, perché sarebbe un giudato storico per la società e quindi faremo di tutto per vincere mercoledì. Certo, è quella la cosa che ci fa più male, c'era molta gente allo stadio, ci ha fatto molto piacere, però allo stesso tempo sono sicuro che ci saranno altre occasioni con altrettanta gente a cui faremo gioire per la nostra vittoria. Ma a inizio anno sinceramente non mi sarei aspettato di poter avere così tanto spazio, io ovviamente mi alleno tutti i giorni e cerco di avere la fiducia del mister, poi lui fa le sue scelte, mi fa piacere il percorso che sto facendo, cercherò di crescere ancora di più perché ci sono molte cose che devo migliorare e cercherò di lavorare sul campo per essere sempre meglio.